Ammiraglio Pettorino, oggi qui all'Istituto Mannella si è acceso il riflettore sull'affondamento del Santa Lucia che ha visto coinvolti anche molti nostri isolani. Sì, è un evento che appartiene alla grande storia, alla storia della marina mercantile, ma anche alla storia di una comunità. È un evento della marina mercantile perché durante la Seconda Guerra Mondiale la nostra flotta fu assolutamente decimata. Il 98% dei nostri mercantili finirono in fondo al mare insieme a oltre 7.000 persone e tra questi anche il Santa Lucia con le sue oltre 60 vittime. Ed è una storia di una comunità perché il Santa Lucia era un postale, cioè un traghetto che insieme alla posta collegava, che portava nelle isole e dalle isole alla terraferma, collegava queste propaggine nel nostro paese del Martirreno a Gaeta, a Napoli, ed era essenziale. Tant'è vero che dopo l'affondamento, nei drammi del fine della guerra, per circa due anni e mezzo, non ci furono più collegamenti e Ponza soffrì moltissimo per l'assenza di questo traghetto. Quindi un pezzo di grande storia, la Seconda Guerra Mondiale, ma un pezzo di piccola storia, la storia di una comunità che ha sofferto, oltre ai lutti delle persone che sono mancate, anche la fame, perché quel traghetto portava anche i generi alimentari. Ecco, ricordiamo che le vittime furono date per disperse e molti dei familiari non poterono celebrare i funerali in quanto non erano morti. C'è stata una testimonianza in particolare qui di un parente di due vittime che si stavano recando attraverso il postale sulle isole Pontine. La cosa che ha destato un po' più di clamore è il fatto che non hanno un posto dove, qui ad Ischia, dove poter ricordare queste persone scomparse. In effetti la tomba di queste persone è in fondo al mare. In quel filmato con cui ho concluso l'intervento, si vede l'immersione che facciamo ogni anno insieme ai sub del Guardia Costiera e delle Capitanerie, dove portiamo una corona. Io ho voluto chiudere la mia carriera proprio portando per l'ultima volta la corona su quella nave, toccandola e dicendo per conto di tutti un eterno riposo a quelle persone che per sempre riposano con la nave in fondo a quelle acque. Torniamo alla sua personale testimonianza che l'ha vista coinvolta in questa vicenda. Io conosco del Santa Lucita quando sono bambino perché me lo raccontava mio nonno che era stato uno dell'equipaggio che per una casualità non imbarcò nell'ultimo viaggio e che quindi era rimasto molto traumatizzato da questo evento. Infatti lui raccontava tante storie che poi si sono rivelate non vere e quindi in me intanto la voglia di affrontare la vita del mare. Io infatti ho fatto il nautico, ero bambino e quindi decisi di fare come scuola il nautico e poi anche più grande la volontà quando ho potuto di fare una ricerca accurata per capire perché quella nave fu colpita. E finalmente scoprimmo che era uno dei tanti bersagli che gli inglesi colpirono proprio per affiavolire la forza di resistenza del regime fascista e farlo definitivamente cadere come in effetti accadde proprio in quei giorni.